Siiii! Grandi raga E' un po' il co- E' un po' il co- E' un po' il co- Ombola Ma vedi il cazzo che c'ho? Questa me la so' chieduta AHAHAHA Ciao ragazzi c'è il Zetro Signori Siamo tornati qui Chi arricchiamo mai sul mio canale Con un nuovo video di Rainbow Six Bomberoni Oggi più che mai vi voglio Chi arricchissimi perché Ascoltate bene E' arrivato il suo momento Torniamo dopo secoli di utilizzare QZ Quindi preparatevi Mi raccomando Spolliciate Tuttavia siamo entrati in game Ci è uscita la mappa Consolato Purtroppo Iniziamo a difendere noi, ragazzi a me scappa già da rito perché dopo colpiozzone Cosa è quella roba qua, c'è verificato un errore Vabbè ma è l'errore, l'errore sei te Umano, c'è un errore umano sei Oh raga dai però Madonna latitante, non è possibile Proviamo a raviare il gioco Mamma mia sto impazzendo, no raga se me la dà persa Spengo, c'è anche da dire che questo gioco Di suo è velocissimo, è velocissimo A fare i caricami Oddio Rido per non piangere Sono disperato Stiamo ancora al carri al menù Dopo dieci minuti Dieci Vabbè il primo round raga è andato Adesso vediamo se ci fa più che altro Ricollegare la partita O meno Sì vai Possiamo tornare dentro Buttiamoci a cannone Vediamo se sono riusciti a vincere il round Ma non penso Speriamo bene Sono tornato Eh sì bomber Eh ma è sbattuto fuori Mi so mica Tra l'altro queste raga sono italiane Baron un carm Io? No perché gioca al rainbow si diverte Poi tipo ogni tanto fai Guarda la scelerazione Grandi Grandi raga Oddio Campioni si parte Eccola qua Fiuzzone No porco Amel raga Amel Manca zibel Che bestia mi ha tirato Sta male Allora raga Adesso lobby completamente italiana Grazie di cuore raga È sempre un piacere gigante Incontrarvi Adesso noi qua con il fuse Tra l'altro non so perché questi Sono venuti a difendere sopra e non sotto Meglio Essendo fuse per noi È solo un bene Adesso proviamo a fizzare anche questa finestra Perché le altre purtroppo me le hanno spaccate tutte Io speravo che me le lasciassero fizzare No raga Com'è lento Com'è lento Sono abituato agli altri Io ai ban A tutti quelli Iper veloci Faccio l'ultima da buttare La metto qua Ok Se ci riusciamo Ui la madò Grandi bombe Grandissimi E gli italiani Gli italiani non scherzo Sta per scappare un altro mestegno Raga mamma mia Qua mi sa che Devo censurare un potto di cose C'è il blitz davanti a me Oh la cam Ma cosa Ma cosa sparo Più mini Assurdo Non riuscivo mica a beccare la cam Cos'è siamo Tre contro Tre contro due Ma che Ok dai dai Col fuse ci facciamo rispettare A parte che c'è una mimetica Giallo stranato Buonissimo Facciamo una cosa intelligente Droniamo Attività nemica Dimenticatevi del contenitore Dove sta Ok ce n'è uno lì Aspetta aspetta Abbasso che sta arrivando La terra veloce Dove che piole dov'è Ok raga l'altro là Non lo sto a vederlo Bella Bella No raga Cioè me la lasciano anche E' qui Sì Grandi E andiamo E andiamo Tutto per questi campioni Raga Grazie mille Ficca mi fanno scassare Grazie Mamma mia che bello Che bello Peccato essere crashati subito all'inizio Nel primo round però Tanta roba Devo dire che Comunque con il fuzzone Abbiamo fatto Una degna kill La prima Di sicuro non la seconda Che era già fatta Me l'hanno regalata Però Raga il fuse è il fuse Leggenda Adesso però difendiamo noi Mi sono preso il capcan No no Ci sono io bomber dentro Ci sono io zio Bella fratmo Non pon la botola eh Io provo Eh se veniva Se veniva era una gran bella kill Qui c'ho ancora delle trappole da piazzare eh Aspetta che Oh c'è il twitch C'è il twitch La faccio Ma non ho parole Non ci credo Sono riuscito a fargli spaccare la trappola E manco l'ho preso Ma sono io Bravo bomber che ne ha seccato uno Ora essendo in superiorità Teniamo Dai dai raga La portiamo a casa Recuperiamo No è glitchato Peccia di merda Se non vestemmio guarda Sta scatenato raga il bomber Che voglio in carica Allora da quello che ho capito Si ho capito Dovrebbero avere Il blitz Col glitch Mi sento male Sto piangendo ragazzi Oh mio dio Spendiamo che lo sistemino subito come hanno fatto per l'altro Calma Mi giuro che Ho le lacrime Dovrebbe esserci l'uno qua Che ansia Ci siamo Bella Bella raga Mancano 22 secondi Ci butteranno dentro la bomba Sto parlando a controllare le scale chiocciola Ma Siamo a 15 secondi C'è nessuno Ho preso un acculio Una dentro Oh oh Skaf gaming bomber Skaf gaming Sempre lui Ma che vi devo dire E come sempre Come il codice sconto E' zè Bravissimi raga Sta venendo fuori un video ignorantissimo Sono molto contento raga Pi che altro Perché sto giocando Con degli italiani Bomber Tra l'altro Che guardano pure i miei video Quindi contentissimo Siamo rientrati in game E stiamo Facendo anche un po' la differenza Perché siamo già 4 kg Zero morti E io mi sono dovuto riprendere il fuse E oggi Cosa è sta roba Zitti Ok Devi girare bene Io non capisco perché questi Vengono a difendere sopra Vabbè Intanto uno Lo hanno fiocinato Io con le Non sto facendo una sega Non sto facendo niente Io con il fuse Prima almeno qualche filo spinato Qualcosa spaccavo Adesso niente Ne proviamo anche qua Poi dopo proverò A callarmi da qualche parte Perché ho finito tutto Vedi raga però quanto Quanto cambia giocare in squadra In team Praticamente Loro hanno Hanno dronato tutte le Stanze Ok lì c'è il mio Sì sono tutti dentro Sicuro Questo operatore Bella Questo operatore ha un'agilità bellissima Però Ti stanno Ti stanno rando No raga aspetta Il tempo che arrivo io È finito il round E manca Ecco Tutto il tempo sul tetto Tutto il tempo Complimentoni qua alla squadra Eh raga io ho fatto semplicemente Del bordello Ho fatto un po' di casino 3 a 1 Abbiamo già il match point Cioè pensate raga che L'unico round che hanno vinto È stato il primo Dove mi hanno sbattuto fuori Io più non posso Adesso invece difendiamo anche noi Sopra in un ufficio amministrativo Io Mi sono ripreso il capcan Che Secondo me qua Spacca Nel senso che con le sue trappole Spesso e volentieri Le beccano Perché faccio l'esterno Esatto Prima di metterle però vorrei Non farmi beccare dei droni Possibilmente Le onde evitare problemi Bombe Io direi di metter giù Le ultime trappole Anche perché vedi Loro infatti fanno tutti gli esterni Tutti Quindi noi ci piazziamo qua Controlliamo l'obiettivo Sono proprio solo Ah si sono proprio solo dentro Bravo Oh ragazzi va piuttosto bene Devo dire Non mi sembrano impeccabili Abbiamo trovato una squadra Che riesce a vincere Solo se Sbattono fuori le persone Questo l'ho vista in diretta In diretta Vigi sei un fenomeno Oh hanno Lion ancora Sto controllando ancora le cam Perché io Voglio capire un attimo da Da dove sono Ma cagare bro Eh cala vedi Che piazza dove sono entrati Secondo me sono tutti le Eh si Ho capito dove sono Mettiamola con calma Non c'è più Non c'è più Non c'è più Non c'è più Raga è rientrato È una manaese Ma vai vai tranquillo bomber Tranquillo Che pesmi chi dentro Chi entra Lo faccio saltare Figa La bomba Sono tutto durato Ci penso io Ci penso io Ci penso io Fratmo Che pesmi Mamma mia Ma come l'ho preso No zio sapone Dov'è Ma è ferimento Dov'è Ah ferimento Sei un grande Fra Sei un grande Ma pensa cosa io Ragazzi sentite cosa io ho detto Ma con che tranquillità Pazzesco No io penso che sia uscito uno dei video più divertenti mai fatto Su Rainbow Six Community lobby completamente italiana Si è visto proprio il principio di sana ignoranza Contentissimo di aver incontrato questi campioni Dispiace non aver giocato il primo roll Perché secondo me potevano fare tanta roba Tuttavia me la son goduta troppo Non possono caricarvi un video del genere ragazzi Madonna E come sempre a me non è stato se non darvi l'appuntamento domani Sempre qui sul mio canale per tanti altri nuovi video Dal vostro E se è tutto un saluto un abbraccione Ciao campioni